mi ricordo quando quando bombardavano roma la prima volta l'anno mi pare che era 43 però il mese mi pare che era luglio agosto era così non mi ricordo e mi ricordo parlava partivano le formazioni americane di così chiamate fortezze volanti le chiamavano bombardieri americani e si stava nel paese tutto insieme sentivi quei rumori cupo alto lontano un rumore assordante però un rumore monotono che era terrorizzante e quello già dal suono del rumore percepivi che c'era un pericolo già imminente e poi si vedevano queste fortezze volanti all'altezza abbastanza notevole che procedevano tutti in formazione lenta lenta verso roma e a vedere le cose lì percepiti già il pericolo che avessero bombardato roma come infatti poco dopo qualche minuto dopo vedendo siccome dal paese si vede in lontananza roma abbiamo cominciato a sentire in lontananza quel rumore di bombardamenti cupo no ovattato e poi si vedevano colonne di fumo che si alzavano dalla città e così si pensò subito hanno bombardato roma con tutte le preoccupazioni che portava questo fatto grazie a tutti